Quadro in parte più chiaro dopo la penultima giornata di Serie D. Resta serrata la lotta per la zona playoff e la zona playout. In particolare nelle zone basse della classifica cellaria dello scampato pericolo per il notaresco. Il 3-0 rifilato alla già sazia e promossa recanatese ha consentito alla squadra di Massimo Epifani di uscire dalla scomodissima zona spareggi, dove era finita dopo la sconfitta di Montegiorgio la quinta consecutiva. Ora l'ultima trasferta dell'anno a Pietramelara contro un alto casertano che ha dato filo da torcere a tutte nell'ultimo periodo. Chiedere a Vastese, Matese e San Benedettese, ma con il giusto approccio potranno arrivare quei tre punti che faranno chiudere la stagione senza altri traumi. Decisamente peggiorata invece la situazione del Castelnuovo che, falcidiato dalle assenze, ha perso lo sconto diretto casalingo col Montegiorgio. Ora per la squadra di Di Fabio le chance di salvezza diretta sono ridotte al Lumicino. Dovrebbe vincere a Vasto Girardi, alto sconto diretto, e sperare in altri risultati quali le sconfitte del Fano col Portodascoli e del Montegiorgio col Tolentino colmando il divario della differenza reti generale con i marchigiani. Combinazioni molto complesse. La sostanza è che il Castelnuovo si giocherà alla salvezza nel play-out e solo vincendo a Vasto Girardi, potenziale avversaria nello spareggio, guadagnerebbe il fattore campo. Al Chieti manca un punto e cercherà di conquistarlo in casa della Re Canatese, così facendo non dovrà guardare gli altri risultati. I neroverdi rischierebbero solo in caso di sconfitta Re Canati, di risultato utile del Matese e di vittorie concomitanti di Notaresco, Montegiorgio e Vasto Girardi, con i molisani che però dovrebbero vincere largamente, tanto da passare in vantaggio nella differenza reti generale rispetto al Chieti. Praticamente ininfluente il risultato del Fano, che anche in caso di vittoria ha una pessima classifica Vulsa. In zona play-off invece Lavastese, complice l'ottima classifica Vulsa e la presenza dello sconto diretto tra Pineto e San Benedettese, è artefice del proprio destino. Vincendo a Nereto sarà dentro. Pineto e San Benedettese hanno gli stessi punti, chi vince farà i play-off. In caso di pareggio saranno fuori entrambe se, oltre Lavastese, dovesse vincere anche il Fiuggi col Castelfidardo. In caso di mancata vittoria dei laziali entrerebbe la San Benedettese, già qualificate tra Stevere e Tolentino.